Attenzione! Questo album è privo di un filo logico, in quanto i pezzi al proprio interno, sono difficilmente riconducibili ad un unico genere musicale. I Notaname vi pregano, dunque di non farvi condizionare da tali sbalzi. Troverete sicuramente qualcosa che vi piacerà. Oppure potremmo uccidervi il pesce rosso. Scegliete voi! Stronzi! Il treno interno, numero 5, proveniente da Sgat Bagonzoni e diretto ad Aabobobara, è in partenza da Tatata, tra 4, 3, 2, 1. Stronzi! 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 Grazie per la visione! 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 I'm not sure, is that what you wanted? I'm not sure, is that what you get? I'm not sure, did it entice you? So nice of you, to land in your bed So nice of you, to steal your pride and sleep with your bride Just be tickling your arms, so crap, but it's too late So the two of you get along, along as well I'm not sure, is that what you wanted? I'm not sure, is this what you get? I'm not sure Get hypnotized Oh boy, you like it when it seals your pride Leaving you pleased with a cheerful smile Leaving you in the desert But also in the deepest sights When you feel like it when it translation While you like it earlier, would you like horror your fear? Grazie a tutti 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 Tutto Grazie a tutti 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 Vai a tutti Grazie 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 a tutti